Ciao a tutti! Cosa mi sembro? Come potete vedere, questo è un bruco. È un animaletto molto simpatico che piacerà tantissimo ai bambini. È composto da diversi palloncini. Come vedete, tutto il corpo è composto da un palloncino ogni colore che vedete. Quindi uno blu, uno giallo, uno verde, uno viola, uno rosso, uno azzurro e uno rosa. All'interno del corpo c'è un palloncino verde che si collega poi alla testa. È composta da un altro palloncino verde e da pezzetti di palloncini che compongono le antenne, gli occhi e il naso. Ci vuole circa mezz'ora, tre quarti d'ora per costruirlo, però penso che ne valga la pena. Spero che vi sia piaciuto questo bel bruco. Al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.